Ciao a tutti, eccoci alla nuova puntata di Cinepassione. Siccome sono un pirlotto, il mese scorso ho dimenticato totalmente di fare dei ringraziamenti, per cui questa puntata la apriamo e la cudiamo con dei ringraziamenti. In apertura voglio ringraziare Andrea Brancato, voglio ringraziare Messinaora.it per quel meraviglioso format che è Scirocco Show, che vi invito tutti a vedere, e in particolare invito a vedere la puntata del 24 ottobre, in cui ero ospite il dottor Nini Panzera, che è storico personaggio, chi è appassionato di cinema conosce Messina, storico gestore e inventore della Saletta Minani, che ci ha mostrato un pezzo di storia del cinema, ci ha mostrato come anche Messina nel suo piccolo ha scritto un pezzo di storia del cinema, ringrazio lui e lo ringrazio anche a livello personale per le belle parole che ha avuto nei confronti di mio padre. A parte questo, comunque invito a vedervi la puntata, è la puntata del 24 ottobre. E parlando di ottobre, non è che sia successo niente di eclatante a livello cinematografico, non abbiamo visto film memorabili, forse l'unico che a me è piaciuto molto e che vi invito a riprendere, perché ancora non ci sarà più al cinema sicuramente, è paranormal. C'è un grosso punto interrogativo sulle belve di Oliver Stone, che ancora non ho visto, che è uscito di recente. Però la cosa che è successa e che voglio ricordare, voglio omaggiare, è scomparsa Silvia Christel, che è la famosa Emanuele, che i più anziani di noi ricordano. E la vorrei, come dire, salutare con questa grip. Icona sexy degli anni 70, Silvia Christel è celebre soprattutto per aver dato corpo alla protagonista dell'adattamento di Emanuele, firmato da Just Jackin, cult del genere erotico che a quei tempi andava per la maggiore. Dopo una parentesi da indossatrice, Silvia vinse un concorso di bellezza e subito dopo partecipò alla commedia piccante L'amica di mio marito, per poi essere notata da Jackin che le affidò il ruolo di interprete principale in Emanuele, ruolo che poi riprese in alcuni sequel del franchise. Rimasta indissolubilmente legata a ruoli di donna sexy e disinibita, la Christel interpretò altre pellicole erotiche, come Una femmina infedele, Il margine e L'amante di Lady Chatterley. Particolarmente controversa fu la sua partecipazione a lezioni maliziose, nel quale figurano numerose scene di sesso tra lei e l'attore Eric Brown, che allora aveva 16 anni e interpretava il ruolo del figlio di un imprenditore che dava incontro ai primi turbamenti sessuali. Dopo la fine degli anni 90, inizia a diradare la sua presenza sul grande schermo, per poi tornare alla ribalta con un'autobiografia, che in Italia edita con il titolo Svestendo Emanuele, e un ruolo nella fiction Le ragazze dello swing, nel 2009. Tra gli altri film italiani interpretati dall'attrice si ricordano Letti Selvaggi di Luigi Zampa e la commedia Un amore in prima classe di Salvatore Santeri con Enrico Montesano. L'attrice si è spenta il 17 ottobre del 2012. Ma guardiamo al futuro e vediamo cosa ci aspetta a novembre. A novembre escono un mare di film, mentre d'estate non usciva nessuno. A novembre è stato veramente difficile selezionare i film da segnalarvi. Intanto vi ricordiamo che il 31 ottobre esce lo 007 di Daniel Craig, con Daniel Craig, Skyfall, di cui tra l'altro c'è una canzone bellissima in diatelle che si chiama proprio Skyfall, se ve l'andate a cercare è stupenda. Andiamo avanti. L'8 novembre è un altro delirio, escono ben 11 film. I più interessanti sono La collina dei papaveri, che è il nuovo film dello studio Ghibli, film d'animazione. Esce Argo, che è il film di Ben Affleck, ora faccio una parentesi, apro una parentesi, Ben Affleck è un regista bravissimo. Se lui abbandonasse il ruolo di attore dove un cane e si dirigasse solo a fare la regia sarebbe un bene per tutti. Però forse a un certo punto ci arriverà anche lui. Infine vi voglio segnalare Hotel Transilvania, che è un altro film di animazione, stile Famiglia Adams, che ha avuto un grosso successo negli Stati Uniti. Il 14 novembre è un'altra settimana in cui escono un sacco di film, ma tanto in realtà ne uscirà solo uno, perché esce la la seconda parte, la conclusione finalmente della saga di Twilight, Breaking Down, parte seconda. Non diremo niente di Breaking Down in questa puntata, perché tengo la mia saputa fisica, però ci dà l'aggancio per poter lanciare il tema della puntata, infatti come vi avevo anticipato il mese scorso, si parlerà di Vampiri. Per cui andiamo avanti velocemente. Il 22 novembre, a proposito di Vampiri, esce un altro film che rischia, che secondo me è già diventato un classico del trash, e parliamo del Dracula di 3D, girato dal clone di Dario Argento. Ricordiamo che il vero Dario Argento è stato rapito dagli alieni vent'anni fa ed è stato sostituito con il suo sosia. Per novembre direi che possiamo finire qua. In realtà escono un sacco di altri film, molte commenti italiane, ma siccome ne parleranno tutti e saranno ben pubblicizzate, non avete bisogno del mio aiuto. Però io il film del mese ve lo voglio consigliare, anche se è stata una scelta difficile, mi sento di consigliarvi Argo, di cui vediamo un po' di trailer. Le azioni dell'Iran hanno sconvolto il mondo civile. Via, via, via! Eliminate tutto! La nostra ambasciata è stata presa e più di 60 cittadini americani continuano a essere tenuti in ostaggio. Ci vorrà un miracolo per tirarli fuori. Piccoletto, che ti guardi? Ho avuto un'idea. Sono una troupe canadese di un film di fantascienza. Io volo a Tehran e ce ne torniamo come se fossimo una truppa. Devi aiutarmi a fare un falso film. Cioè, vuoi venire a Hollywood a spacciarti per qualcuno senza essere nessuno? Sì. Sarai io tuo agio. Ti serve un copione? Argo, fantascienza avventurosa. Luna, Marte, deserto. Ci serve una location esotica. Ti serve un produttore? Se io faccio un falso film, sarà un falso successo. E adesso entriamo nel vivo del tema di questo mese, i vampiri, e lanciamo la rubrica che personalmente mi diverte di più, e cioè Gli Epic Queen e Gli Epic Fail. Vediamo secondo Cinepassione, grazie a Gabriella, quali sono i film migliori, secondo noi, della storia del cinema che parlano di vampiri. La filmografia è talmente vasta sui vampiri che dover scegliere quali siano i migliori è stata un'impresa molto ardua. Ma Cinepassione alla fine ha la sua classifica. Al terzo posto il classico vampiresco dei nostri tempi. Dracula di Francis Ford Coppola. Film bellissimo con un'atmosfera molto raffinata e un cast in gran forma. L'interpretazione di Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves è considerata ancora oggi da molti critici perfetta sotto ogni punto di vista. E bravo Coppola! Senza offesa per nessuno. Al secondo posto un film piuttosto recente, ma già un classico. Lasciami entrare. Tratto da un romanzo piuttosto mediocre, il film ci regala una grandissima lezione di regia. Le parole sono superflue, i momenti topici del film ci vengono regalati da sguardi ed azioni. Il talento del regista, Alfredson, è purissimo ed è stato confermato dal suo secondo lavoro, La Talpa. Al primo posto un ex-equo. Il classico e modernissimo Nosferatu di Murnau, un film fondamentale per la storia del cinema. Uno dei primi film che tenta di creare un linguaggio cinematografico che non dipenda da canoni teatrali. E se non l'avete visto? Fatelo! Nel dividere il podio il film L'ombra del vampiro. Inquietante e favolistico, sguardo su Murnau è il suo cast durante le riprese di Nosferatu. Bravissimo John Markovic e strepitoso William Dafoe, quest'ultimo nei panni emblematici di uno dei vampiri più famosi al mondo. E adesso la parte più divertente. Devo dire, lo dirà anche Gabriella, che tra la tanta cacca che c'è in giro sui vampiri è stato veramente difficile selezionare tre film per gli Epic Fail. Ma noi ce l'abbiamo fatta. Vi invito anche a dire la vostra. Se voi pensate che ci sono dei film più brutti rispetto a quelli che vi stiamo facendo vedere, ditecelo che li segnaleremo a tutti. Vai Gabriella, quali sono gli Epic Fail? E se per gli Epic Queen è stato difficile, per gli Epic Fail è stato quasi impossibile, soprattutto vista la quantità di cacca e spazzatura prodotta sui vampiri. Ma alla fine, grazie a una buona dosi di purga, abbiamo partorito anche in questo caso il trio delle merdaviglie. Al terzo posto un film ideato da niente popò di meno che da Andy Warhol. Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete. E lo cerca in Italia? Perché fin dall'alba dei tempi è proverbiale la penuria di vergini nel nostro bel paese. Epica la frase del lancio. Nell'attuale mondo pieno di inganni e falsità, c'è sempre qualcuno pronto ad adulterargli il cibo. Al secondo posto, tra tanto schifo, non potevamo non mettere Steven Seagal. L'uomo che comunica con i cani grazie ai suoi poteri delle paci, true story, che prende a spadate i nostri amici della notte e ci riesce stando ben fermo sul posto. Il film si intitola Last Night. Non ne sappiamo niente e niente ne vogliamo sapere. E la cacca d'oro invece la vince per questo mese, sulla fiducia, un film che ancora deve uscire. Il clone di Dario Argento, gira Dracula, lo gira in 3D e dosa l'inosabile. Noi diciamo solo... Cavalletta! E naturalmente non può mancare, quando si parla di vampiri, la rubrica sui film trash. Anche se di trash già con gli Epic Fail abbiamo visto qualcosa, ma il film trash per eccellenza, per quando si parla di vampiri, è un film che si intitola Jesus Christ Vampire Hunter. Vediamo. L'idea di partenza di Jesus Christ Vampire Hunter è già di per sé molto trash, anche se poi guardandolo in realtà un po' si perde in alcuni tratti a noia. La trama però supplisce a tutti i difetti. In una non ben definita città canadese, i vampiri, aiutati dal terribile dottor Pretorius, scoprono come resistere alla luce del sole. La soluzione era semplice, e sta nel costruirsi una seconda pelle con i resti di donne lesbiche, la cui pelle, notoriamente, è resistentissima al sole. Un seminarista, preoccupato per la sorte della comunità lesbica che sta per essere decimata, chiama Gesù Cristo, che combatterà i vampiri a colpi di Kung Fu celeste. Questo mese lanciamo una nuova rubrica, visto che io sono anche molto affezionato e molto appassionato al cinema orientale, anzi c'è stato un periodo della mia vita in cui non guardavo altro, ho voluto tradagliare un piccolo spazio anche per segnalarvi qualche film orientale, una rubrica che chiamiamo Ventito Oriente. In realtà, anche se andiamo a guardare l'Oriente, c'è tanto trash per quanto riguarda i vampiri, però visto che già di trash ne abbiamo parlato abbastanza, volevo segnalarvi un bel film. Dal regista della famosissima e bellissima trilogia della vendetta, Park Chang-wok, eccovi Thirst. Shang Yun, un sacerdote devoto e rispettato, decide di sottoporsi volontario a un esperimento che mira a trovare un vaccino per il nuovo terribile Emmanuel Virus, ma viene infettato dal virus stesso e muore. Una trasfusione di sangue e di prominenza ignota però lo riporta in vita come vampiro. Si sparge la voce che faccia miracoli e bisognosi accorrono al suo letto d'ospedale. Tra essi, Shang Yun ritrova l'amico d'infanzia, Kang-wu, e si innamora perdutamente della moglie, Tae-ju, con la quale intraprende una relazione che lo porta ad uccidere l'amico e a prendere il suo posto, nella casa della madre. Liberamente ispirato a Teresa Raken di Zola, di cui riprende la trama e il numero di personaggi, Thirst, del coreano Park Chang-wok, è un film denso e in continua trasformazione. Di orrorifico non c'è nullo quasi, di nuovo sui vampiri nemmeno. Il film non tratta la paura, ma l'amore carnale e l'amore tenero, filmando entrambi senza interruzioni. Ridondante e imperfetto, passa senza posa per situazioni cinematograficamente note e ricorrenti, come un vampiro che torna in diverse epoche, e talvolta la sensazione che tutto sia già stato scritto è forte. Ma la penna di Park Chang-wook ha un inchiostro unico, il suo quadro e il suo lavoro sul sonoro un'espressività senza pari. E dopo Thirst non poteva mancare la parentesi sulla televisione, quindi il nostro secondo canale. La scorsa volta parlavamo di YouTube, ora parliamo proprio di televisione. Perché in realtà il mito del vampiro è un mito molto interessante, che è stato anche un mito spaventoso fino a un certo punto, però a un certo punto è diventato una specie di emo. Chi è stato a cominciare questa cosa? Di chi è la colpa? Allora, secondo me è stata di Joss Whedon, che con Buffy e Angel, se vi ricordate i famosi telefilm degli anni 90, ha dato questa, come dire, quest'aura adolescenziale al mito del vampiro. Allora, a me Buffy e Angel veramente mi sono piaciuti tanto. Tra l'altro, di Angel, se qualcuno di voi l'ha visto, adoravo la sigla. Sigla che vi voglio far ascoltare in una cover di un ragazzo spagnolo che ho trovato e che ho beccato su YouTube. Guardiamo. Allora, a me Buffy e Angel I Buffy e Angel si poteva rimanere sopraffatti dalla forza di questo mito, come ne fu sopraffatto Bela Lugosi, celeberrimo attore che interpretò Dragolo, il primo Dragolo affascinante della storia del cinema. Su Bela Lugosi abbiamo preparato una piccola scheda che vi proponiamo e speriamo di farvi nascere la curiosità di approfondire questo personaggio. Gabri. Bela Lugosi al secolo Bela Ferns d'Escoblans nasco, nacque il 20 ottobre del 1882. Ma artisticamente vide le sue origini sui palcoscenici ungheresi fin da giovanissimo, facendosi notare per la sua straordinaria capacità di totale e profonda immedesimazione con i personaggi da lui interpretati. Particolarità questa che gli fece guadagnare un discreto successo dal 1902 fino al 1912, interpretando le tragedie più in voca dell'epoca. Ma la crisi per Lugosi arriva quando il pubblico cominciò a richiedere sempre più frequentemente un altro tipo di spettacoli, le commedie. E non riuscendo proprio ad adattarci sia alla fine della Grande Guerra, si spostò in Italia per poi partire clandestino alla volta dell'America, cercando una dimensione artistica più consona. Ma fu solo nel 1931 che Bela Lugosi vide svoltare decisamente la sua carriera, e cioè quando la Universal Picture decise di produrre un film basato sul romanzo di Bram Stoker, Dracula. L'attore da grande amante del personaggio del vampiro approfittò dell'amicizia epistolare che aveva precedentemente instaurato con la vedova dello scrittore, riuscendo ad accapararsi la parte in cambio di una trattativa sui diritti datore che gli valse uno sconto di ben 200.000 dollari. Lugosi, che vedeva questo personaggio metafisico carismatico al di sopra dei comuni mortali, donò tutta la sua maestria inventiva distaccandosi completamente dal personaggio originale. Fu così che il frac, il papillon, i capelli impomatati e un fascino irresistibile resero il Dracula di Todd Browning uno storico spartiacco e tra il cinema muto e quello sonoro. Ma questa, più che una fortuna per l'interprete, si rivela una condanna. Le proposte per altri ruoli furono ben poche, e per lo più personaggi dolenti, orrorifici o crepuscolari. In un'intervista dichiarò «Non puoi essere credibile se recitando una parte in un film dell'orrore te la ridi sotto i baffi. Se non sei serio, la gente lo capisce. Non importa quanto la parte sia drammatica o ridicola, tu ci devi credere». E ci dovette credere molto dato che Dracula divenne tutto il suo mondo e tutto il suo mondo si lasciò divorere da Dracula. Tanto che moltissimi sono pronti a giurare che, negli ultimi tempi, Lugosi fosse solido dormire in una bara foderata di rosso. Morì il 16 agosto 1956, lasciandoci almeno così si dice con la frase che entrerà poi di diritto nella storia di Hollywood e dei suoi personaggi. «Io sono il conte Dracula! Io sono il re dei vampiri! Io sono immortale!» L'attore venne poi sepolto all'Holly Cross Sematary di Los Angeles, avvolto nel suo inseparabile mantello nero foderato di rosso, mentre l'amico Peter Lor, rivolgendosi a Boris Karloff, chiedeva se avrebbe dovuto piantargli un paletto nel cuore. Con questo abbiamo finito la puntata di novembre, abbiamo concluso la puntata di novembre. In realtà, per parlare di vampiri, avremmo dovuto avere non una, ma dieci puntate, perché ci sono tante cose che non abbiamo detto, che non abbiamo completamente considerato, a parte Breaking Down, che è stata una scelta, ma, per esempio, c'è una letteratura pazzesca sui vampiri. Per se tutti conoscono il Dracula di Banan Stoker, per esempio, secondo me, uno dei libri più belli sui vampiri e Carmilla, e non l'abbiamo detto. Oppure, se potevamo aprire una parentesi sugli anni Ottanta, c'è quel film meraviglioso con Kiefer Sutherland, mi pare, che è Lost Boys. Ci sono tantissime canzoni, volevamo fare una rubrica nota alla nota, che magari riproporremo in un'altra puntata, in cui vi proponiamo alcune canzoni bellissime, molto gotiche, molto cupe, sui vampiri, ma questo, purtroppo, anche per problemi di spazio di tempo, non l'abbiamo potuto fare. Per cui la chiudiamo qui, con la promessa, magari, di farne un'altra, approfondendo altri aspetti. Cosa ci rimane da fare? Ci rimane il concorso, concorso che il scorso mese non ha vinto nessuno, nessuno ci ha provato, il film era King Kong, per cui questo messo ve lo faccio facilissimo, perché è una questione di velocità. È un film in cui c'è un tizio di colore che caccia i vampiri, ok? E la concludiamo qui. Facciamo... Ah, devo chiudere con i ringraziamenti, che l'altra volta me lo sono scordato. Allora ringrazio Messinaora.it che mi dà la possibilità di essere qui e fare un po' lo scemo e parlare delle mie passioni. Quindi, Patrick e Palmira, grazie. Ringrazio Gabriella che mi mette a disposizione la sua splendida voce per poter fare, per poter variare un po' e fare i servizi. E ringrazio Rosalia Radosti, la nostra vignettista, che mette il suo splendido talento a disposizione di questa cinepassione. Per cui ci vediamo a dicembre dove parleremo di fantasy. Fantasy, fantasy, Pantotto è lei. Pantotto è lei.